Buonasera e bentornati a Rendering, la rubrica di Architettura, Tecnologia e Divertimento. Io sono Silvia Rossi e come ci sono Elena Stoppioni, Presidente di Save the Planet Onlus, Paolo Leccese, mio collega e blogger, Andrea Sfera, architetto sempre al nostro fianco e quest'oggi abbiamo anche Marina Annunziato, anche lei architetta. Insieme cercheremo di capire come rendere le nostre case sostenibili. Devo dire, dopo la sberla che ci ha dato Greta Thunberg con questo mega sciopero studentesco in tutto il mondo, dico sberla perché effettivamente è stata un po' una presa di coscienza molto immediata, scoperto questo velo sotto il quale c'erano delle verità che sapevamo, che un po' ignoravamo, no? e in particolare che l'uomo e le azioni umane influiscono pesantemente e negativamente sul clima. Infatti leggevo sul sito di Save the Planet, appunto, Green, che siamo nell'era dell'antropocene, cosa significa? Antropocene, il modo di definire le ere geologiche, finisce più o meno sempre in Ene, l'antropocene viene da Antropos, uomo, da quando c'è attività antropica, soprattutto dopo il periodo industriale, il pianeta ha avuto un sobbalzo, nel senso che l'attività industriale, l'attività dei trasporti, l'attività delle costruzioni, ha generato così tanti gas clima alteranti che la Terra ha iniziato a accumulare energia e quindi è iniziato l'era anche del riscaldamento globale. Capito. Ma noi come possiamo intervenire anche nei piccoli gesti all'interno della casa, la nostra routine domestica, come può essere cambiata per anche noi dare il nostro piccolo contributo? Ci sono un'infinità di piccoli accorgimenti e ci sono un'infinità di grandi accorgimenti. Diciamo che fare correttamente la raccolta differenziata è un buonissimo inizio. Spengere le luci banalmente quando si esce dalle stanze per non consumare energia è un buonissimo inizio. Informarsi, utilizzare meno plastica. Poi se volete vi racconto anche da cosa nasce la plastica. Sì, è chiaro. Tutte sono azioni. Passare da energia fossile a energia rinnovabile cercando di impiegare sempre più mobilità elettrica piuttosto che inserire nelle nostre case contratti di energia rinnovabile. Sono tutte cose che possono anche smuovere poi le istituzioni. La plastica nasce per un motivo ecologico. Alla fine dell'Ottocento andava tantissimo di moda giocare a biliardo tra i nobili e per giocare a biliardo le palle da biliardo erano in avorio. Quindi si ammazzavano tantissimi elefanti per far divertire i nobili. Ci fu un imprenditore illuminato che decise di creare un contest per che fra i chimici qualcuno fosse ricompensato se avesse inventato un materiale che avesse sostituito l'avorio. È lì che nasce il primo polimero e nasce il primo materiale plastico che sostituiva le palle di avorio perché aveva la stessa rigidità, consistenza. Dov'è stata l'aberrazione lì? Che noi utilizziamo la plastica per i materiali uso e getta. Ora, tutto si degrada. Cioè se io prendo una buccia di banana e la butto per terra in un bosco e torno dopo 30 giorni poi la buccia di banana non c'è quasi più. Si è degradata perché i batteri l'hanno fatta diventare metano e terriccio. Anzi, è concimato. Ha concimato. Se io butto un pezzo di carta e torno dopo 30 giorni lo ritrovo. Se torno dopo 30 anni non lo ritrovo più perché ci mette di più. Se io butto un pezzo di plastica e torno dopo 500 anni lo ritrovo ancora. Cioè è un materiale che si degrada in migliaia di anni. Per tanto non è un materiale use e getta. È un materiale durevole. E l'aberrazione è proprio aver iniziato a fare oggetti di uso quotidiano in plastica le cannucce, i bicchieri, le posate che poi vengono lasciate nei rifiuti e che triscono tutte nei nostri oceani. Senti, per ritornare alla casa cioè hai detto le piccole cose che possiamo fare quali sono invece le grandi cose che possiamo fare rispetto alla casa? Eh, rispetto alla casa bisogna considerare il processo produttivo. nel senso che ad oggi esistono certificazioni green per l'involucro cioè esistono le certificazioni più comunemente denominate casa clima, GBC, LID che considerano la casa come se fosse un secchio bucato nel senso che se io ho un secchio sotto un rubinetto e il secchio è bucato il rubinetto è l'energia che metto nell'abitazione per scaldarla se il secchio è bucato disperde e quindi dovrò impiegare sempre più energia le certificazioni sull'involucro servono a dire io ho riparato tutti i buchi del secchio di modo che quella casa non disperde più e quindi è più sostenibile è green si impiegano anche materiali naturali ma per arrivare alla casa non c'è ancora un processo che mi asseveri che il cantiere il processo produttivo è stato green è quello che io sto iniziando a fare con l'associazione con Save the Planet e con l'associazione nazionale costruttori edili è un processo che parte dai costruttori di Varese e che poi adesso stiamo diffondendo un po' in tutta Italia cantieri green quindi portare energia rinnovabile in cantiere eliminare le fonti fossili dal processo produttivo delle costruzioni di modo che il costruttore possa mettere il marchio cantiere green by Save the Planet sul suo cartello di cantiere e informare la cittadinanza e i possibili acquirenti del fatto che quella casa lì è stata costruita con energie rinnovabili e che può attivare utenze con energie rinnovabili interessante poi Paolo ti chiedo se valgono di più le case sostenibili ma ci arriviamo sono pronto ho studiato un'altra cosa volevo chiedere in una città come Roma dove ci sono palazzi storici che quindi non sono stati concepiti con questa idea della sostenibilità ambientale e questo lo chiedo anche a Marina e a Andrea come si può fare in questi edifici storici a rendere le case sostenibili ti dirò che è più facile nell'edificio storico che nell'edilizia diciamo fra gli anni 50, 60, 70 nel senso che le grandi pareti le costruzioni fatte con tanto materiale hanno una buona base di... perché trattengono perché trattengono il calore che riparano dal caldo esatto si chiama inerzia termica cioè io lascio che il calore entri nella mia casa esempio classico d'estate io vado via la mattina che c'è freschino se non ho il climatizzatore durante la giornata torno e magari fa ancora un po' freschino poi la notte arriva la botta di caldo in casa cosa è successo è andato via il sole ci ha messo tanto tempo l'energia a attraversare le pareti molto grandi per cui gli edifici storici hanno una loro buona base si può intervenire sui serramenti si può intervenire sui punti termici si può intervenire sulle coperture ci sono piccole cose che... piccole cose interventi anche sostanziali anche sull'impiantistica che possono essere fatti tra l'altro su questo l'ho stato già da un po' dall'eco bonus nel senso che è possibile detrarre dall'imponibile fino al 65% dell'importo della ristrutturazione poi c'è un plus addirittura sulle zone condominali sulle zone sismiche esistono anche degli strumenti più difficile l'edilizia quella diciamo così del dopoguerra perché lì ci siamo fatti fuori per motivi di spazio le grandi pareti abbiamo tirato su un po' a mattoni e a forati e l'innovazione tecnologica ci ha messo un po' prima di capire che oltre a quei mattoni lì in faccia vista andava messo anche dell'isolante andava pensata la casa in un modo completamente diverso e chiedo anche a voi se vi è capitato appunto di clienti che vi hanno chiesto la sostenibilità ambientale della casa e come avete chiederlo forse ultimamente sì ma è molto difficile perché ovvio che è il l'elemento determinante è comunque il costo economico infatti volevo chiedere quanto mi costa sia per chi realizza cioè quindi il costruttore e quindi quando tu gli vai a proporre una tecnologia una tipologia costruttiva la prima cosa che mi risponde sì ma quanto mi costa di più questo è rispetto alla costruzione tradizionale al quale il costruttore è abituato di fatto però poi sto riscontrando che ovviamente i nuovi immobili che sono comunque in classe A per non parlare della casa passiva ma insomma hanno ovviamente un valore molto più elevato in questo momento rispetto alle vecchie case che sono energiore che consumano ovviamente tantissimo e quindi ovvio chi va chi si approccia ad acquistare un nuovo immobile comincia a guardare anche il fatto che insomma se spendo 500 euro l'anno per riscaldare la casa una casa di 100 metri quadrati rispetto a una che magari devi spenderne 3-4 volte di più se non ancora di più comincia a essere un argomento interessante è vero che bisogna poi saper intervenire invece sulle ristrutturazioni ad un livello uniforme quindi se faccio un cappotto termico devo intervenire anche sugli infissi devo intervenire anche sugli impianti devo pensare anche a poter recuperare l'acqua piovana cioè ci sono tante sfaccettature il solare il termico per poter poi far diventare una casa o quantomeno avvicinarmi ad avere una casa sostenibile ok Marina te hai diciamo che con le detrazioni fiscali dell'eco bonus la gente è più invogliata magari a una ristrutturazione e siamo anche noi professionisti che magari dobbiamo proprio proporre queste soluzioni diciamo ecologiche perché le persone a volte magari non neanche ne sentono parlare e in questo ambito quindi noi possiamo introdurre diciamo a seconda del budget chiaramente delle soluzioni a partire dal cambio dell'infisso che mi sembra già il minimo oppure un cappotto interno in caso di ponti termici e quindi di presenza di muffe e di batteri che sono pure delle teri per la salute delle persone oltre a livello estetico che si vedono e per gli appassionati della tecnologia si può anche proporre la domotica e la domotica ci può aiutare in tal senso ad esempio già il fatto che spinge e accende le luci quando entriamo e usciamo dagli ambienti è un risparmio energetico oppure coordinare l'esposizione dei pannelli solari in base al movimento del sole oppure far partire gli elettrodomestici che fanno uso dell'acqua nel momento in cui c'è stato l'accumulo del pannello solare e dell'elettricità si possono suggerire varie cose bisogna solo entrare in questa nuova mentalità e farle capire alle persone infatti vi volevo chiedere sempre a voi architetti come tutta questa tematica ambientale ha influito sul vostro lavoro perché immagino siccome è sempre in evoluzione ci sono sempre cose nuove nuove scoperte quindi che influiscono poi sulle normative e poi anche sulla progettazione perché non si parte più dalla comodità o dall'estetica ma si parte dalla sostenibilità diciamo che la biarchitettura ci aiuta molto già in questo si parte proprio dalla progettazione preliminare in cui bisogna andare proprio a studiare bene il posizionamento e l'esposizione dell'edificio la forma stessa dell'edificio in modo che sia meno disperdente e il rapporto tra le pareti e le bucature già studiando già dall'inizio questo poi si va avanti procedendo nello studio dei nuovi materiali materiali facilmente reperibili ma anche dei materiali che vengano da prodotti di riciclo e che a loro volta siano riciclabili e sfruttare quindi anche le nuove tecnologie delle fonti rinnovabili e non più fonti che provengono dagli idrocarburi chiaramente e tutto questo deve essere deve entrare comunque ancora nella nostra mentalità perché purtroppo le persone ancora non stanno soprattutto anche i costruttori che vedono tutto soltanto a livello economico e per ora scelgono ancora il modo tradizionale diciamo di costruire quello che più conoscono tra l'altro la novità spaventa anche perché tutto questo che appena descritto è in realtà poi il risultato di una progettazione integrata quindi deve nascere proprio dal preliminare dal progetto preliminare perché comunque l'impianto il materiale e poi il risultato anche estetico finale devono dialogare tra di loro sin dall'inizio quindi è impensabile che si possa realizzare una casa sostenibile a spizziche bocconi come si dice a Parigi una camera sì e l'altra no oppure sì oppure faccio fare lavoro un operaio poi ne chiamo un altro poi chiamo un'impresa cioè perché poi noi insomma la realtà poi è anche questa che si va a cercare di ragionare cercare di risparmiare un pochino ovunque ma bisognerebbe guardare un pochino oltre perché poi il risparmio vero ce l'hai una volta che sei riuscito a dare un equilibrio e un'efficienza all'immobile certo e allora volevo chiedere a Paolo se ti è capitato appunto di valutare di più un immobile proprio perché rispondeva a determinate caratteristiche di sostenibilità ambientale proprio in questa materia sono particolarmente formato perché credo di aver venduto di aver venduto un cantiere a Roma tra i primi ad avere la certificazione casa clima che Elena conosce molto bene l'impatto che c'è stato sul mercato è stato da prima quindi tanto dipende dalla zona ovviamente quando si costruisce in questo modo e per lo più a Roma si costruisce solo in periferia perché è difficile costruire una bella zona centrale centrale la percezione del mercato è stata quella di sì ma lì me lo vendono in classe B questo è classe A4 certificato casa clima sì ma lì in classe B la stessa casa la pago 50 mila euro di meno la fatica del venditore è quella di cercare di convincere che quei 50 mila euro negli anni li recupera con gli interessi nel risparmio energetico che avrà nella manutenzione e nei consumi costanti che saranno molti meno rispetto a quello della classe B ma questo nell'immediato non viene percepito comunque si fa fatica quindi un po' di più sì però quando si parla di cappotto termico a Roma per lo più un ceto medio basso dice non ne ho bisogno perché la parola cappotto a Roma fa caldo capito in realtà quel cappotto serve come mi spiegate voi tecnici soprattutto per il caldo e quindi la risposta è sì però se oggi mi chiedi se io fossi un costruttore e devo costruire in questo modo devo stare veramente molto attento a costi benefici rispetto alla percezione del mercato e quindi ho fatto prima un'analisi sul tipo di comunicazione se può essere recepito da quel territorio perché non tutti i territori sono uguali Milano per esempio ha una capacità di penetrazione di questa informazione molto forte quindi tu decidi di costruire green fai casa clima a quattro te lo pagano molto di più rispetto a un'altra Roma io ho fatto fatica ed è un'esperienza è una questione di cultura come diceva anche Marina però se non c'è la giusta comunicazione che noi stiamo cercando di fare anche con questa trasmissione se non c'è comunicazione verso il mercato finale verso il consumatore finale che in realtà dovrebbe essere si dovrebbe sentire tutelato dal fatto di acquistare una casa con queste caratteristiche perché è una casa che dura nel tempo perché gli accorgimenti che vengono presi su una casa costruita in questo modo sono sicuramente superiori a una casa tra virgolette normale anche perché poi ti troverai a doverli rifare perché prima o poi li dovrai rifare sei infissi eccetera eccetera bene io adesso volevo dirvi che ho frugato un po' sui vostri profili facebook e devo dire Elena il tuo profilo è simpaticissimo perché alterni diciamo le cose importanti del tuo lavoro anche frasi e foto con tua figlia divertenti fatte con snapchat e in toscana dicono ci sai andare su facebook ci sai andare anzi lo sai mandare lo sai mandare e allora ho trovato alcune foto vediamo la prima che trovavo simpatica non so se ce l'avete è una scritta con base eccola ho messo la testa a posto ma non mi ricordo dove questa è risvegliata sono notoriamente una disordinata creativa diciamo così per cui dalla casa fino alla scrivania guardando si vede bene qual è il mio punto debole ho dei momenti di blackout per cui dovute all'overbooking della roba nella testa per cui questa è una cosa che chi mi conosce bene capisce subito no poi ho visto i commenti anche a me è capita spesso quindi sei in buona compagnia diciamo e poi ne ho trovata un'altra che ho trovato molto divertente te devi ferma e anche questo e questo mi sa che è a Roma questo è un omaggio a chi avevamo citato prima cioè a Davide Michetti eravamo in piena organizzazione di Fidec e lui mi dice sempre Elena te devi ferma non puoi continuare ad andare così e allora gliel'avevo messa lì a posto mi faceva ridere perché mia figlia quando è andata a abitare a Milano mi fa mamma qui ho capito che le strisce non sono solo per decorazione qui la gente si ferma veramente no e poi ci avevo visto anche un po' un parallelo con il tuo lavoro cioè adesso ci dobbiamo fermare e vedere perché la regola c'è le cose le sappiamo dobbiamo solo agire in modo consono alla realtà e invece Marina nella tua nel tuo profilo questo forse l'ho preso da Instagram ho trovato questa foto sei qui insieme a Chiara Cirinà che è la tua socia architetta però mi chiedevo ma tutti quei divani quelle belle sedie perché vi siete sedute proprio per terra? siccome mi occupo anche di home staging quello è stato il primo allestimento che abbiamo fatto insieme e siccome era molto bello l'allestimento sul divano non ci volevamo mettere sedute sopra per lovinarlo e allora ci siamo messi sedute a terra mettendo in primo piano la nostra opera così per giocare e ora vi chiedo di consigliarci un influencer un profilo che vi piace che seguite che vi informa e vi diverte se vi viene in mente qualcuno così lo seguiamo anche noi io ne ho due uno più serio e uno più faceto diciamo quello più serio tra l'altro è un amico è stato l'ideatore il fondatore di Casa Clima Norbert Lantner per chi non è bolsanino si legge si scrive Lantner con il CH ok poi sui social mettiamo il link così non ci sbagliamo è talmente tanto esperto di clima e energia che è diventato ambasciatore della terra per l'ONU pochi giorni fa è una delle persone più illuminate rispetto a questa cosa l'altro mi piace da impazzire il profilo social di Dio che è un ragazzo tra l'altro con cui ci siamo anche iscritti si chiama Alessandro bravissimo che secondo me ha proprio colto il giusto spirito rispetto a tutta la questione anche dell'utilizzo di social cioè far passare anche dei messaggi forti alti con una grande ironia e una grande vivacità e un linguaggio anche molto semplice esattamente Andrea? io stavo ripensando prima alla sua intervista quando hai parlato del Save the Planet di come potersi scrivere mettersi soprattutto a disposizione insomma quindi è una cosa che mi interessa e comincerò un attimo a guardare come possiamo essere utili allora ci consigli Save the Planet perché diciamo dal così io lo faccio nel mio quartiere no? quindi però dal micro al macro potrebbe essere un punto tra l'altro potrebbe essere abbinabile esatto quindi pensavo lo facciamo per le aiuole per le nostre strade per il nostro quartiere possiamo cominciare a guardare come dicevo prima oltre e guardare verso il nostro pianeta perché no? ottimo io seguo Paola Marella che diciamo che penso sia un influencer a 360 gradi lei pure è nata come agente immobiliare è diventata poi architetto e poi dopo è diventata diciamo famosa anche in tv per i suoi programmi e è un influencer penso un po' in tutto a partire dalla moda dagli eventi in cui ritrovarsi ai prodotti da comprare sia a livello architettonico di design che proprio di vestiario e come arredare proprio per anche l'architettura devo dire che la seguo volentieri mi piace è anche molto simpatica l'ho conosciuta lo scorso anno a un corso a Milano è anche una donna molto alla mano una vera milanese poi confermi Andrea che ci hai lavorato che è molto milanese si confermi molto milanese però è alla mano è bravissima e lasciamo dietro l'aggettivo milanese ognuno ci mette il suo da interpretare Paolo te che ci consigli? allora un ragazzo giovane che vive a Londra si chiama Gianluigi Ballarani è un ragazzo molto attivo sui social lui ovviamente è una persona che si occupa di marketing dei nuovi marketing legati ai social network ai media nuovi diciamo ma sta portando avanti un'iniziativa che mi ha incuriosito moltissimo che riguarda la gestione dei nostri dati noi diamo regaliamo i nostri dati a tutti i social network Google Facebook Amazon gli regaliamo i dati e loro li vendono lui ha avuto l'idea di creare un'azienda perché è un'azienda che vorrebbe lucrare su questo ma lucrando lui farebbe lucrare anche il consumatore finale perché in realtà lui pagherebbe ci pagherebbe i dati che noi diamo a lui che poi a sua volta condivide con questi giants questi giganti che hanno i famosi big data e che loro chiaramente l'altro giorno Facebook è stata inoltrata una notizia che si è perso circa 2000 dati sono diventati pubblici seppur all'interno del loro circuito chiari si dice non criptati i dati email e password di circa 2000 utenti di Facebook e hanno detto vabbè però nessuno ne ha fatto un utilizzo per ora nessuno ne ha fatto ancora un utilizzo sbagliato l'importanza del fatto di regalare questi dati che noi facciamo ormai abitualmente ogni volta scarichiamo un'applicazione regaliamo i nostri dati la nostra posizione chissà dall'altra parte sa dove ci troviamo sempre questo è le nostre abitudini questo è qualcosa che vale tanto quindi lo sto seguendo perché sta portando avanti questa iniziativa che si chiama UDI H UDI è un'iniziativa che secondo me vale la pena metterci gli occhi addosso non so se sarà lui a riuscirci con questa iniziativa ma sicuramente nasceranno società di intermediazione del dato in questo senso di protezione e quindi guardo lui per monitorare quello che succede bene ti ringrazio ringrazio tutti voi e buonasera ci vediamo la prossima settimana e adesso ci sarà Leonardo Raso con The Wall hai deciso di vendere il tuo immobile frutto dei risparmi di una vita prendi un appuntamento con un consulente di GSA Reagency riceverai una consulenza globale sulle strategie migliori per raggiungere il tuo obiettivo affidati alla professionalità del nostro team di agenti immobiliari che ti garantiranno un controllo preventivo e certificato sulla vendibilità del tuo immobile un servizio fotografico di altissima qualità e video a 360 gradi che resteranno tuoi per sempre l'utilizzo di strumenti tecnologici all'avanguardia la condivisione con tutte le agenzie immobiliari d'Italia e molto altro ancora tratta bene il tuo immobile risparmia il tuo tempo e dedicati alle tue passioni rivolgiti con fiducia a GSA Reagency al numero 06 833 61116 www.gsareagency.com innamorarsi dell'Italia è inevitabile arte buona cucina paesaggi tradizioni locali moda e artigianate vivere le eccellenze italiane è il sogno di ogni viaggiatore e alcuni fanno del bel paese la loro seconda casa gateway.com è la vetrina per gli operatori immobiliari che vogliono ampliare le loro vendite oltre confine con le sue 10 versioni linguistiche è lo strumento rivolto agli stranieri per orientarsi nel mercato immobiliare italiano gateway.com per vendere casa agli stranieri Stay in Rome Apartments il grande amore per Roma Stay in Rome Apartments ti offre la possibilità di adibire la tua seconda casa come alloggio per locazioni turistiche Stay in Rome Apartments condurrà per te le attività di promozione e booking un completo servizio di accoglienza pulizie e noleggio biancheria liberandoti così da tutti gli oneri gestionali visita il nostro sito internet www.stayinromeapartments.com e contattaci via mail infochiocciola stayinromeapartments.com saremo felici di parlare con te e aiutarti a scegliere la migliore soluzione per le tue esigenze Stay in Rome Apartments desiderio e passione di condividere insieme a te la storia e il fascino della città eterna Sei un agente immobiliare? Vorresti avere più tempo da dedicare allo sviluppo delle relazioni con i tuoi clienti? Safe Home è la soluzione tecnica per le agenzie immobiliari a tutela dei clienti con un solo clic ti mette in contatto con il tuo tecnico di fiducia che in pochissimo tempo in maniera economica ti consegnerà un fascicolo completo contenente una relazione tecnica e tutti i documenti necessari per vendere meglio e prima tutti gli immobili in portafoglio Chiama ora senza impegno il numero 06 92 91 54 73 e visita il sito www.safehomeitaly.it Ho sognato la nostra casa bella, accogliente immersa nel verde con tutti i servizi e non è costata una fortuna Non sognare a occhi aperti i tuoi desideri con noi diventano realtà Selva Nera Village appartamenti di nuova costruzione prenota la tua casa con soli 1000 euro e inclusa nel prezzo una cucina completa di elettrodomestici Selva Nera Village punto it a pochi minuti dall'uscita 3 del Gra Roma Selva Candida 06 83 36 11 16 selvanera Village selvanera Village punto it Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.